Lo spirito è quello del desiderio di conversione, cioè di ricentrare la propria vita. Conversione è una parola che spaventa, ma ricentrare la propria vita su quelli che sono non i valori, ma il valore massimo e che è la dignità dell'uomo data da Dio per mezzo del figlio suo Gesù Cristo. Anche qui non ci fermiamo perché domani sia il mercoledì delle ceneri, ma domenica la nostra parrocchia si è data appuntamento per il ritiro di quaresima e quindi continueremo a lavorare insieme in laboratorio per ricercare il vero senso del nostro vivere e del nostro operare. Finito il carnevale, la parrocchia Maria Santa Immacolata si prepara già al periodo quaresimale. Lo fate rendo presente i grandi valori acquisiti, soprattutto nello stare assieme per il cambiamento. positivo della comunità. Sono stati cinque i carri dedicati alla tutela dell'ambiente presenti in sfilata che hanno alietato i tanti presenti in piazza Militegnoto. Il carro di apertura era capeggiato da una Greta Thunberg in carta pesta e dalla sua orca ripiena di bottiglie di plastica con un Donald Trump alla guida. E poi Sanpei, il famoso ragazzo pescatore, costretto a salvare più tosto che a pescare i suoi pesci. E a Ursula e alla sua sirenetta, alla carica dei 101 e alla conchiglia che al suo interno non ha più una perla ma un sacco di spazzatura. Non è mancata la tanta vitalità, le idee e la passione che hanno messo tutti i volontari della parrocchia Maria Santa Immacolata con a capo padre Fulvio Procino, Deus ex machina di tutta la manifestazione che, ancora una volta, ha sottolineato la sua felicità nell'aver visto un grande momento di aggregazione della comunità parrocchiale per la buona riuscita di tutto l'evento. A margine della sfilata carnevalesca, la scuola di balo di Gaetano De Palo, la Dance Team Bari, che ha coinvolto tutti i presenti, mascherati e non, con balli latinoamericani e di gruppo, con la consapevolezza che almeno per un paio d'ore si è cercato solo di sorridere e di divertirsi. Non dimenticato che la mercoledì scorso ci si sta preparando al periodo quaresimale.